Allora, io mi sentivo nel ruolo di un testimone di nozze, cioè di una persona che non partecipa direttamente alla campagna elettorale, però si presta a garantire l'integrità di un gruppo. Allora, io le faccio questo esempio. Se lei è testimone di nozze... Sì, vada un po' veloce, mi deve perdonare, sono in ritardo. Certo, ma se scopre che due giorni prima delle nozze, che la sposa ha tradito il marito con il collega d'ufficio la settimana prima, lei lo dice allo sposo o no? Io non so, non saprei rispondere, francamente. Io le dico di sì, perché secondo me, cosa fa? Aspetta dopo il matrimonio e lo dice dopo? No, l'onestà e la trasparenza, lei ha preso una garanzia, io ho dato una garanzia. E quelli si ammeranno per sempre, sarà una coppia meravigliosa e felice, avranno tanti bei bambini, questa è un'ipotesi che non... E saranno sbagliati, semplicemente. No, ma perché uno può fare degli errori, può ammetterli e può spiegarli. Se però io so un'informazione cruciale e io garantisco per questo, perché io ho garantito di fronte agli italiani, non solo il programma di fare, ma anche le persone di fare, che ho sostenuto anche con la mia campagna. Con la mia iniziativa, andando in giro per la campagna elettorale. Quando io, per caso, ho saputo un'informazione fondamentale, non potevo non dirla. La ringrazio, professore, l'autore di Contro il capitalismo. Lei scenderebbe, tornerebbe in politica con il PD, ad esempio. Speriamo di no.